ciao a tutti benvenuti in un nuovo video nel precedente video abbiamo parlato di cosa sia una compressa abbiamo dato anche la definizione che ne dà il nostro testo di riferimento ovvero la farmacopea farmacopea ufficiale dodicesima edizione quella attualmente in vigore e abbiamo poi accennato alla fisica della compressione vedendo anche tutte le varie fasi che la polvere subisce e i fenomeni fisici che avvengono in questo secondo video partiremo con una domanda molto interessante cioè perché una compressa e da lì poi andremo a analizzare brevemente tutte le tipologie di compresse che ci dà la farmacopea inizio questo video con questa domanda proprio perché un mio caro professore iniziò una sua lezione così e devo dire che fu una lezione davvero emozionante inoltre lui è un vero esperto di compresse tant'è che dice che le compresse sono il suo mondo ed è a lui che il video è ispirato ciao mario dunque la compressa è una forma farmaceutica solida a dose unica che si ottiene per compressione di volumi uniformi di una polvere oppure un granulato contenente uno o più principi attivi uno più farmaci insomma è una forma farmaceutica molto diffusa grazie a tutta una serie di caratteristiche favorevoli sia dal punto di vista del paziente che da quello del produttore poi come la capsula rispetto alle preparazioni liquide chiaramente è una preparazione stabile una formulazione molto stabile le compresse possono anche essere fatte di un ritmo di produzione nettamente superiore rispetto a quello delle capsule sia che le capsule vengano fatte con incapsulatrici manuali o semi automatiche ma sicuramente la compressa non è adatta a delle piccole produzioni di prodotto anche se poi vedremo che proprio in questa serie non è sempre vero infatti noi produrremo un piccolo lotto di compresse perché ovviamente siamo in un laboratorio galenico una industria chiaramente non lo farà mai poi la compressa ha semplicità ed economia nella preparazione e convenienza anche nel confezionamento nello stoccaggio nel trasporto nella distribuzione quindi sono tutti aspetti molto importanti all'economia poi praticità di utilizzo e infatti la compressa viene preferita nell'adulto infatti se ci ricordiamo nella playlist delle capsule avevamo detto che la capsula dà l'idea di plastica quando invece però non è così poi noi possiamo fare le compresse con le forme più disparate e quando dico disparate intendo veramente qualsiasi forma ho visto stampi di paperino di topolino oppure anche più moderni stampi con le emoji insomma le le con il telefonino quindi veramente ci si può sbizzarire può avere diverse forme dipende tutto dal punzone dalla matrice ma comunque ne parleremo meglio in dettaglio quando affronteremo il nostro strumento e poi la compressa può essere colorata di qualsiasi tipo di colore sia di colori pastello se la compressa non è rivestita come poi vedremo ma anche di colori un pochino più accesi da dove la compressa sia rivestita se per esempio poi vi sono difficoltà di deglutizione come per esempio ci potevano essere nella capsula qui nessun problema perché la compressa è un passo avanti e uno direbbe come beh basta per esempio formulare la compressa in maniera oro dispersibile oppure in maniera effervescente o masticabile ovviamente questo principio attivo permettendo è perché comunque ci sono sempre dei parametri a cui dobbiamo stare attenti uno degli altri vantaggi della compressa è che si può arrivare a dosaggi di mille milligrammi 1200 milligrammi in una compressa singola nelle deglutibili classiche o addirittura anche a 2000 milligrammi per esempio nelle veterinarie o nelle compresse solubili cosa che ovviamente nelle capsule noi non possiamo mai raggiungere questi dosaggi per ovvi ragioni di involucro e di volume all'interno quindi non è proprio possibile inoltre vi è anche la possibilità di utilizzare la stessa apparecchiatura per preparare diversi tipi di compresse compresse solubili dispersibili mucodesive basta cambiare la formulazione poi le compresse possono anche essere divisibili se il punzone è resecato in due o quattro parti qui ora vi ho messo una diapositiva che abbiamo già visto nel precedente video brevemente ecco le tipologie delle compresse diciamo quindi proprio due parole su queste tipologie ma così è proprio un passato poi se volete qualche info e curiosità in più chiaramente ci sono i commenti mi iscrivete e io cercherò di rispondere tipologie di compresse ce lo dice la farmacopea le compresse sono diversi tipi iniziamo dalle compresse non rivestite dunque le compresse non rivestite sono quelle su cui noi concentriamo in maggior modo questo video e poi sono anche quelle che andiamo a fare fra le compresse non rivestite ci sono anche quelle multistrato che si riconoscono per la differenziazione solitamente del colore di ogni strato fra l'altro poi queste tecnologie vengono anche utilizzate dall'industria alimentare per la produzione di compresse come per esempio le caramelle particolari poi vi sono le compresse rivestite però per le compresse rivestite serve uno strumento particolare che è la bassina la bassina è uno strumento interessante avete presente quando per esempio alle feste c'è il camioncino del croccante ecco quello ha una sorta di betoniera dove mette le mandorle lo zucchero ecco la bassina praticamente ha un funzionamento simile serve a confettare la compressa cioè a ricoprirla di uno strato di zucchero e questo viene fatto per vari motivi in primis quello di fra piccolette addolcire la pillola nel senso che va a coprire letteralmente proprio la compressa in modo tale da non far sentire odori e sapori sgradevoli oppure amari insomma copre il gusto poi magari anche funzioni di proteggere il principio attivo dare dei colori insomma ci sono vari scopi compresse effervescenti molto carine come tipologia di compresse e sono le classiche che associamo per esempio alle multivitamine tipo quelle che compriamo al supermercato in tubetto per intenderci sono delle compresse molto grandi perché il loro scopo chiaramente non è quello di essere deglutite o masticate ma essere messe in acqua per poter creare al momento una soluzione di principio attivo insomma disperso in soluzione sono delle compresse semplici nella cui formulazione poi sono impiegati in genere contemporaneamente sostanze a reazione acida e carbonati o bicarbonato in grado chiaramente di reagire rapidamente in presenza di acqua liberando le bollicine quindi liberando anidride carbonica classica reazione insomma di liberazione della co2 chiaramente devono essere sciolte in acqua prima della somministrazione si usano spesso per i bambini oppure per far disperdere i principi attivi che magari sono insolubili oppure anche perché magari ci sono alcuni principi attivi che sono gastrolesivi e quindi in questa maniera si migliora la tollerabilità gastrica non a caso per esempio l'aspirina viene molto utilizzata come compresse effervescente oppure si usa per esempio quando il dosaggio di un farmaco è molto elevato e quindi serve un bel pasticcone quando si producono chiaramente necessitano di alcune importanti accortezze una fra tutte e l'umidità dell'ambiente che deve essere bassa altrimenti se noi lavoriamo in un laboratorio che ha una sauna è chiaro che ancora prima di fare queste compresse queste si mettono a frizzare compresse solubili allora le solubili sono delle compresse semplici destinate a essere sciolte o disperse in acqua prima di essere somministrate sono molto utili nei bambini negli anziani oppure negli adulti piagnucoloni e pensate un po che sono date anche alla somministrazione inalatoria o topica per esempio con dei principi attivi instabili vedete quante cose interessanti si possono fare con queste compresse ebbene sì perché poi lo scopo del video non è solo quello di informare ma anche di ispirare l'altra volta per esempio mi è arrivato un email di una persona che mi diceva grazie per i contenuti che fai perché mi sono stati utili all'esame di stato e io bene sono felicissimo peccato che poi vabbè non si sia firmata comunque possibile che se ancora devi fare l'orale dell'esame di stato magari questo video lo vedrai e quindi ti rivolgo un saluto continuiamo poi ci sono anche compresse masticabili e oro dispersibili sono delle compresse semplici adottate essenzialmente per bambini oppure per la somministrazione di particolari farmaci per il loro alto dosaggio insomma che darebbero luogo a delle compresse molto grosse in dimensioni magari anche difficili proprio da deglutire e che sono destinate a essere insomma disperse in bocca quindi sciolte in bocca e poi inghiottite queste compresse dato che arrivano allo stomaco già in forma di sciolta hanno una biodisponibilità molto più rapida tipo 15 30 minuti poi ci sono le compresse a rilascio modificato anche dette accessione regolata sono delle formulazioni molto interessanti vengono preparate con additivi oppure dei procedimenti particolari tali da regolare la cessione del principio attivo in maniera ritardata nel tempo oppure in maniera mirata cioè localizzata quindi frazionando i principi attivi per esempio nelle varie parti dell'intestino a seconda del ph insomma sono formulazioni di vero interesse terapeutico quindi ricordiamo azione ritardata o frazionata poi ci sono compresse gastro resistenti gastro resistenti praticamente posseggono un rivestimento resistente all'azione dei succhi gastrici ricordiamo che il succo gastrico ha un ph notevolmente acido siamo intorno a 12 quindi serve un rivestimento particolare che si ottiene grazie a delle sostanze come per esempio la cellulosa cetoftalato oppure alcuni polimeri dell'acido metacrilico e questa gastro resistenza questa copertura si ottiene sempre mediante la bassina quindi si fa la compressa e poi si riveste in bassina con queste sostanze poi la farmacopea dice compresse da usare nella cavità buccale e uno a una prima lettura potrebbe dire sì dove le uso se no queste compresse vi dico subito che esistono anche compresse per uso rettale vaginale sottocutaneo iniettabili insomma questa è una forma farmaceutica veramente interessante qui però la farmacopea intende le compresse ad esempio quelle da scioglieri in bocca permettendo una cessione lenta generalmente il medicamento con un'azione locale per esempio un disinfettante per il cavolare un'azione anestetica o anche sistemica visto per esempio le masticabili oppure le oro dispersibili poi sempre in queste compresse da usare nella cavità buccale comprende per esempio le compresse sublinguali che sono delle compresse formulate per ottenere l'accessione il principio attivo e l'assorbimento sotto la lingua oppure attraverso la guancia per esempio si usa questa via di somministrazione che è efficace per alcuni tipi di farmaci che attraverso l'assorbimento gastrointestinale per esempio sarebbero distrutti dall'ambiente gastrico oppure verrebbero distrutti dal metabolismo di primo passaggio perché per mezzo all'elevata irrorazione sanguigna quindi il numero di capillari che irrorano la mucosa sublinguale il medicamento passa direttamente in circolo nel torrente sanguigno quindi andando a esplicare direttamente rapidamente la sua azione per esempio le compresse di nitroglicerina escludendo così il metabolismo di primo passaggio e garantendoci dei vantaggi terapeutici. Le compresse buccali devono disgregarsi in un tempo rapidissimo infatti circa tre minuti ecco questa è una breve panoramica delle compresse che ci dà la farmacopea e dai anche oggi abbiamo visto qualche informazione in più su questa fantastica forma farmaceutica che sono le compresse io vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuove e fantastiche esperienze ma soprattutto su tutte queste playlist che stanno uscendo in questo periodo e che sono veramente interessanti anche perché sono state costruite con lo scopo di creare un piccolo percorso che possa essere utile a chi vuole informarsi su una farmaceutica ma poi anche interessanti dal punto di vista così diciamo divulgativo per conoscere meglio il mondo dei medicinali per qualsiasi informazione curiosità o esperimento scrivimi alla cucinachimica chiocciolagmail.com e noi ci vediamo al prossimo video sempre su questa playlist delle compresse Grazie a tutti